Si chiama Culturare, il festival biennale che arricchisce il parterre di iniziative del Comune di Mesagne e che potrebbe essere il primo appuntamento ufficiale del percorso da Capitale della Cultura 2024 se nel frattempo la speciale commissione, nominata dal Ministero, dovesse scegliere proprio Mesagne fra le dieci città rimaste in corsa. È stato firmato a Palazzo Celestini, sede del Comune, il protocollo d'intesa con la rete di imprese Mice Experience Puglia rappresentata dall'imprenditore Pierangelo Argentieri. Il festival biennale che prevede spettacoli, manifestazioni culturali e convegni si svolgerà il 23, 24 e 25 aprile prossimi. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco Tony Matarrelli, dal delegato comunale alla cultura Marco Calò e da Pierangelo Argentieri. Verrà coinvolto tutto il centro storico della città e anche le zone limitrofe e l'obiettivo è quello ovviamente di promuovere le nostre bellezze attraverso una modalità nuova e molto più efficace del passato. Intanto Mesagne si prepara ad affrontare l'ultima sfida, quella decisiva. Il 3 marzo alle ore 14 il Comune sarà ascoltato in audizione dalla commissione che sceglierà la Capitale della Cultura 2024. Un appuntamento che Antenna Sud, media partner di Mesagne 2024, sin dall'inizio di questa avventura, documenterà con particolare attenzione. Stiamo lavorando allacremente, con molta passione e molta dedizione. Stiamo per produrre del materiale audiovisivo e con la nostra progettista Simonetta Dello Monaco abbiamo in serbo delle sorprese importanti. Stiamo la passione混zente. Stiamo impromp senza ruptale 촉 lowerzzi.